Di Batalcoa, a Risera Merisso, secretario nazionale di Savim, Marco Bentivogli, ha pubblicato in su diario su di Facebook una scanto grossi dadisi. Nara che l'Unione Europea, in direttura ad espressare i suoi risu, a sui dei sali gittimitati dei saini energetici che bocate a scampo o a riservi di Batalcoa, ad addonare due anni su scetti di superinterrompibilità a sui comparatori possibili Glencore. Chi liberò dagli appedio dei gi, che i bocici si conferman t'abilitati e ad appodillompia si accabuta e si dibatta. RSU si indaccause traballatori si avettanti in moi, si attopi con il suministro guidi, potenne risposta segura e definitiva. Cronaca di Carbonia E' sequestrao due vetture, sa chi andando a giro, se ne assicurai. Polar SRL di Vicina, sa interrogata di Zell. Su consiglieri regionali di Zell, Luca Pizzutto, ha depositato un'interrogata a noi, insassessoravo a Sindustria, posta questioni Polar SRL, merino a dessa fabbrica di Bentonite di Vicina. Su documento, sì, chi si presentava in su mese ragiola, sa chi si assessorava e ha donato un mese di risposta, sa secondo i dati su chi tenia in mano a Sora. Però, apposti, se un contesto ha fatto un noso, chi tenita bisogno di risposta a crara, sa di donare a su sulci si deggiosso. Lui ha da bisogno, affrima Pizzutto, di accrarare sa calità di demissioni dessa zienda e del sobrano industriale presentato, può comprendere che di adere su questa società di Noa, possa t'assegurare e straballadorisi a sa regioni, sa fico di uno governo, dessa concessione minera, che andi da innanti su uno scanto sannoso. I dipendenti si chi vunti tammeni traballenti in sa zienda e pruchettotto i da giannoi traballadorisi che incianti i bogao, può aicinare antarreato su disciplinarisi, teniti diretto dei voti che un fiai in una verigualda sighida a sa proprietàdi. Noi osa permiti chi una traborta, sentiti vazzanta beffa a facci manna dessa dignità di dessu sulci e dessu traballo, e osa billai senapauso e sperauso che voi dipendenti se gli antiperdi su traballo puro, due a passamanera dei torri o berri sa dibatta. Potottosi schibattare l'antarossa dignità di essu traballo, due se usempri e due a paesi, sa rapizzutto. Carbonia, biblioteca serrata sa popa schicedda, sa biblioteca comunali dei Bia Arsia, sa mediatecca, e se usso la canargia sa decortogiana, sa barbusi, sgannauso e sa sezioni de storie su logo in sa minamanna de serbario, antaparrai serrata sa su pubblico in occasione dei saffessu popa schicedda dell'unisi bintuno fina sa sabato d'uduso del genargio. Su servizio da torri o berri con regolarità di lunisi 4 del genargio de su 2016. Carbonia, desafio denatata a speziali. Crasi, con comenza a noi ora e meso, in sa vicina comunale di Carbonia, noi adai sa desette edizioni si desu desafio denatata città di Carbonia, dedicavo a persone si descapacitata sa manifestata con cordata desa sozio sportivo a su sul Cisionluso e collocata in meso desattopio su con cordato su po' i 76 anni su desa città. S'intento dessa manifestata e diamostra i simporto desu sport, che hai inade a costi da soziali, bo atturai i dotus in parisi, spassiai e fai amiganzia. Grazie. 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 Grazie.